Antonella Clerici ha compiuto 59 anni il 6 dicembre, l'amatissima conduttrice è stata circondata da tantissimo affetto a partire dal suo marito Vittorio Garrone che le ha fatto la sorpresa di raggiungerla in studio. Tra loro un legame perfetto e poi festeggia con gli amici più cari, sua figlia Mael, bellissima, le porta una torta stupenda con decori di rose rosa. La conduttrice che entra nei casi degli italiani ogni giorno con la sua trasmissione è davvero di casa. Ancora un periodo brillante della sua carriera e della sua vita privata. Tanti auguri dunque ad Antonella Clerici. Grazie mille! Ma è bellissima! Ma che meraviglia! Le cose vere, quindi poche persone ma cui io voglio molto bene e siete qui tutti stasera. bravo